Amici di Bergamo Nero Blu, benvenuti a questo nuovo appuntamento del post Atalanta Lazio 3 a 4 Partita veramente al di là del risultato molto bella Perché secondo me, o meglio vedendola dallo stadio, comunque la prestazione dell'Atalanta c'è stata Sin dal primo minuto abbiamo cercato in vari modi di segnare Al settimo minuto Paloski ha preso una traversa che se magari entrava poteva già condizionare il risultato Abbiamo cercato fino al quarto d'ora del primo tempo di creare occasioni e l'abbiamo avuta Però purtroppo per imprecisione e anche secondo me un po' di sfortuna non abbiamo trovato il gol Purtroppo nel cercare il gol abbiamo preso tre contropiedi O meglio, due contropiedi e un calcio di punizione dove purtroppo abbiamo subito tre gol E al fine del primo tempo, come sapete tutti, l'Atalanta è in svantaggio per 3 a 0 Anche se la partita è stata bella, soprattutto nel primo tempo per il gioco E nel secondo tempo per l'orgoglio che comunque la squadra di Gasperini ha tirato fuori Anche perché andando sotto di tre gol in cinque minuti, se non ricordo male, abbiamo segnato due gol con Cassi Quindi abbiamo dimostrato che comunque sappiamo fare qualcosa Certo è che comunque la vera disattenzione di questa squadra è la difesa O meglio, secondo me gli errori di Gasperini sono stati, a mio avviso, di lasciare in panchina Masiello E d'Alessandro dal primo minuto e mettere Raimondi come esterno di difesa Anche perché Raimondi si ha fatto il difensore, ma teoricamente sarebbe un centrocampista Purtroppo abbiamo perso, anche se come ripeto la prestazione secondo me c'è stata Come ho detto, l'errore di Gasperini, oltre a quelli di Masiello e di D'Alessandro E' il fatto che la difesa non è alta, ma è altissima E qui a Bergamo non vedevamo queste cose qui da parecchio tempo Con Colantuone e Correa, queste cose qui non si erano mai viste E questo qui è il calcio di Gasperini Un calcio, vedendolo con la Lazio, un po' la Zeeman Quindi pressare, 11 giocatori che pressano, 11 giocatori che cercano il gol Contemporaneamente si fa tanti gol, come abbiamo visto tre gol Ma contemporaneamente si subisce, come infatti domenica abbiamo subito quattro gol Di cui alcuni, è vero che sono dei contropiedi Ma se non ricordo male, il primo gol è col pass, ho letto, di Raimondi Il secondo di Sportieri, infatti se avete letto le pagelle Difesa tutti da quattro e mezzo, cinque, compreso il portiere Migliore in campo secondo me Cassi Indipendentemente dai due gol, anche se non fondamentali per il risultato Se comunque ha dato una mano a centro campo Buono anche da Alessandro quando è entrato per sostituire Drame Buono anche l'ingresso di Petagna Che comunque ha fatto il gol al 91esimo Che ha dato quelle pochissime speranze di fare il quarto gol Se avete letto comunque sulla pagina Facebook di Bergamo Nero Blu A fine primo tempo, in diretta allo stadio Avevo scritto che comunque, fine primo tempo, l'Atalanta perdeva 3-0 C'erano pochissime speranze di rimonta Ma noi ci credevamo È quasi successo, purtroppo ci è mancato O meglio, abbiamo fatto il terzo gol Ma ormai a tempo scaduto Ora testa alla Sampdoria Primo e vero, secondo me scontro diretto Anche se giochiamo fuori casa Sampdoria invigorita per la vittoria contro l'Empoli Fuori casa per 1-0 Noi giocheremo come sempre fuori casa Domenica alle 20.45 Se non cambierà nulla, ma molto probabilmente no Purtroppo, o meglio Secondo me, quello che abbiamo visto domenica contro la Lazio O meglio, come impostazioni di gioco Sarà quello tutto l'anno Quindi dovremmo, secondo me, abituarci a vedere questo gioco E speriamo che Gasperini rimedi al più presto sulla difesa In quanto l'ho vista veramente molto molto alta E anche i tre di difesa si rendevano partecipe alla fase offensiva Ciò che magari con Reia e con Antono non si era mai visto Però io dico, in conclusione, indipendentemente dal risultato finale Che è vero che è quello che conta La prestazione, come ho ribadito prima C'è stata, si è vista Soprattutto anche perché il pubblico Indipendentemente da quanti gol avevamo fatto noi E quanti gol abbiamo subito Ha comunque applaudito la squadra Quindi vuol dire che c'è gioco Speriamo che insieme al gioco verranno i risultati Bene, per questo è tutto Ci vediamo alla prossima Forza Atalanta, sempre e comunque Alla prossima